100 metri allo stacco velocissimo dall'esterno Mozart bypass si avvantaggia in poche battute scende in corda in poco meno di 50 metri e guida su Pompeo Sirial Mozart bypass dunque che sfonda dall'estremità della prima fila ora però c'è One Arrow Gar che va al suo attacco e ottiene via libera dopo 300 metri di gara il vantaggio One Arrow Gar completamento dei 400 in 29,6 One Arrow Gar in vantaggio Mozart bypass in seconda posizione poi Pompeo Sirial percorsie esterne vediamo la mossa graduale di Proxima MB che si trascina Wasdei Greppi lungo la corda in quarta posizione c'è invece Mistero del Colle allargo anche Proiettile EGV seguito da Pettirosso Jet 45 i primi 600 si affronta la penultima curva situazione tattica invariata con One Arrow Gar che guida completa in 1,1 e 2 i primi 800 metri di gara si avvicina comunque all'esterno Proxima MB seguita nell'azione da Wasdei Greppi siamo ormai all'altezza del chilometro la coppia di testa lo percorre nell'ordine del 1,15 e 9 il contatto rimane lungo la corda Mozart bypass intanto 500 alla conclusione seconda pariglia esterna per Wasdei Greppi seguito da Proiettile EGV poi Pettirosso Jet più indietro 400 al palo il parziale in 14,4 ora per One Arrow Gar che ha sempre la presenza esterna di Proxima MB si muove Proiettile EGV che viene in terza ruota 300 dalla conclusione scurvando cerca di avvicinare i primi retta d'arrivo One Arrow Gar si presenta in vantaggio ancora lo incalza Proxima poi a centropista Proiettile EGV che scatta l'errore di One Arrow Gar e così vittoria per Proiettile EGV secondo posto per Mozart bypass e più indietro al terzo forse ancora Proxima MB il successo per il favorito Proiettile EGV Roberto Vecchione in seriolo al triplo in giornata training di Walter Castellani quota di 1,80 al totalizzatore sbaglia invece One Arrow Gar a secondo posto pressoché acquisito e anzi era in lotta naturalmente per la vittoria ma secondo posto così per il numero 7 Mozart bypass al terzo finisce Proxima MB a secondo posto pressoché